Benvenuti a questa nuova edizione del Tg oristanese di Aristanesi TV. In questi giorni molti oristanesi si stanno domandando come mai gli edifici che per anni hanno ospitato la casa circondariale di Oristano non rientrano in possesso della municipalità, considerato l'alto valore storico per la città. Sentiamo Paolo De Sobus. Il Comune di Oristano non ha rinunciato a sostenere la richiesta per avere la titolarietà dell'edificio di Piazza Manno, che prima ospitava le carceri, e nel corpo a sinistra della struttura quello che viene individuato come il castello o reggia dei giudici d'Arborea. Su questo punto il sindaco Massimiliano Sanna è stato chiarissimo, ma sull'intera vicenda ad Oristano è polemica. Intanto sotto il profilo storiografico saranno necessarie ricerche più accurate per apurarne in passato ricerche meno empiriche di quelle svolte in superficie nel sottosuolo di Piazza Manno. Ma questo è altro problema, anche se l'utilizzo di questo spazio dovrà essere posto in relazione alla destinazione d'uso delle ex carceri che si vuole destinare a prefettura e la parte più nobile, quella sinistra, che poi si inoltre in via Gio Maria Angioi, al luogo della cultura. Questo in relazione al fatto che sarà necessario ricavare spazi per la sosta e la disciplina per il traffico pedonale. Tempo al tempo per verificare e stabilire i contorni di una operazione insediativa dai contorni tutti da definire, con l'attenzione rivolta al polmone di via Cagliari, dove a sede la stazione dell'Arst, spazio che stando agli amministratori comunali del capoluogo, una volta reso disponibile, dovrebbe risolvere più d'una criticità. Emergenza Lingua Blu in Sardegna nasce un'anagrafe unica regionale del benessere animale. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Arianna De Zogos. Aiuti preziosi per gli elevatori sardi estremati dall'emergenza Lingua Blu. Nascerà un'anagrafe unica del benessere animale. Un ufficio regionale di coordinamento a carattere interassessoriale sarà in grado di governare i processi decisionali e le azioni di prevenzione riguardanti l'intera filiera della salute animale in ambito zootecnico. Proposte annunciate dall'assessore Armando Bartolazzi e dall'assessore regionale agricoltura Gianfranco Satta, nel corso dell'incontro svolto presso la sede dell'assessorato regionale alla sanità. Non è esistita finora per gli elevatori la possibilità di fare riferimento ad un soggetto unico regionale per riadempimenti di registro, obbligatori per legge, relativi alle nascite, alle morti, alle movimentazioni dei capi. Per tale motivo è stato deciso di incaricare l'azienda regionale per la salute Ares di predisporre una gara regionale in modo da avere finalmente una centralizzazione dei dati essenziali e poter costituire così un'anagrafe unica. Azioni fondamentali per la tracciabilità, per la programmazione, per la gestione e il monitoraggio delle campagne vaccinali, nonché per la valutazione degli esiti relativi alle azioni intraprese, anche al fino del calcolo dei ristori. Nel centro storico di Oristano sta per diventare operativa la ZTL, zona a traffico limitato, non senza protesta di residenti e non. Ancora Paolo De Sons. La notizia la si era già anticipata nei giorni scorsi sulla raccolta di firme da parte di un gruppo di cittadini residenti nel centro storico della città che si ritengono penalizzati dalla istituzione della nuova ZTL e ne chiedono la revisione. Oltre 100 le firme raccolte che pioveranno sui tavoli del sindaco e dell'assessore all'urbanistica, i quali i cittadini interessati chiedono l'incontro e carte alla mano verificare la fattibilità di una inversione di tendenza. A procedure già avviate non sarà cosa facile, ma gli interessati sono decisi a forzare la mano investendo del problema l'intera assemblea civica. In sostanza i residenti nelle vie Solferino, Cagliari, Sant'Antonio, Carmine, Gio Maria Angioi, Cittadella di Menorca, Vittorio Emanuele, Piazza Duomo sono le aree escluse dalla perimetrazione e quindi destinate a divenire lo sfogo e il parcheggio naturale per quanti hanno interessi da quelle parti. La palla passa ora in mano all'assessore Ivano Cuccu con il possibile instaurarsi di un nuovo ulteriore braccio di ferro. Nelle scorse ore presso il CEAS Avistaisi è stato presentato il progetto Le quattro stagioni negli orti, un progetto per la sostenibilità. I dettagli nel servizio di Laura Marchi. Il 31 ottobre presso il CEAS Avistaisi a Sarodia sarà presentato il progetto Le quattro stagioni negli orti, mirato alla protezione e valorizzazione degli orti sociali e sostenibili. Antonio Ricciu, coordinatore del CEAS, afferma che il progetto mira a prolungare l'uso dell'area per garantire continuità all'iniziativa Coltiviamo la biodiversità in città. Gli obiettivi includono l'aumento dell'accessibilità per tutti, inclusi i disabili, e la creazione di spazi per attività educative e ricreative in linea con l'agenda 2030. Il progetto coinvolgerà la comunità nella gestione degli spazi verdi con attività di cura e di raccolta. È prevista anche la donazione di piantine di lufa per sensibilizzare contro l'inquinamento marino. All'evento del 31 ottobre è presente l'assessore all'ambiente con la presentazione dettagliata del progetto, oltre alla piantumazione di ortaggi invernali con le scuole locali. Ancora Laura Marchi ci parla del protocollo d'intesa per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche, siglata da Ordine dei Medici e Lilt, insieme per la salute della comunità. Ad Oristano il 22 ottobre 2024 è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia e la Lilt, sezione Oristano, mirato a potenziare la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per migliorare l'attenzione verso le persone colpite da tumori, permettendo un'integrazione delle attività della Lilt con quella dei medici. La presidente della Lilt, Erald Alicheri, ha sottolineato l'importanza dell'interazione tra medici e pazienti, ritenendo fondamentale il supporto dei medici di fiducia, poiché si aumenta l'efficacia delle iniziative di prevenzione. Inoltre, Antonio Sulis, presidente dell'Ordine dei Medici di Oristano, ha evidenziato come il protocollo faciliti un sostegno concreto nella lotta ai tumori e i medici di base potranno indirizzare i pazienti verso le campagne della Lilt, migliorando così l'assistenza e il benessere generale. Il protocollo impegna l'Ordine a diffondere l'attività della Lilt per raggiungere un numero maggiore di persone e aumentare la consapevolezza sui percorsi terapeutici e preventivi. Tra le iniziative previste vi saranno programmi per la prevenzione terziaria, incontri motivazionali, gestione dello stress e laboratori creativi rivolti a chi ha avuto esperienze di tumore e ai loro familiari. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della pubblica istruzione Ilaria Portas, supporta le biblioteche. Il servizio La Giunta Todde supporterà le biblioteche aperte al pubblico dei comuni, consorzi e città metropolitane dell'isola per l'acquisto di nuovi volumi. Il criterio si baserà sulla suddivisione in proporzione al patrimonio librario delle stesse biblioteche. Lo stanziamento pare a 1.800.000 euro sarà dunque così ripartito. Fino a un massimo di 2.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi. Fino a un massimo di 4.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario compreso tra 5.000 e 20.000 volumi. Fino a un massimo di 8.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di libri in librerie del territorio. Il 30% delle risorse assegnate a ciascuna biblioteca deve essere usato per l'acquisto di libri editi da case editrici sarde. Con questo intervento garantiamo il diritto alla lettura, supportiamo le librerie del territorio e le biblioteche e insieme l'editoria sarda precedentemente esclusa dal decreto nazionale, ha affermato l'assessore della pubblica istruzione Ilaria Portas. Un tour del prefetto di Oristano dedicato ai giovani sportivi della provincia prende il via dal circolo nautico di Oristano. I dettagli nel servizio di Laura Marchi. Con l'arrivo dell'autunno tornano gli incontri organizzati dal prefetto Salvatore Angeri con i ragazzi impegnati nelle varie discipline sportive della provincia. Questa volta la scelta è ricaduta sul circolo nautico di Oristano, situato nell'area del porticiolo turistico di Torre Grande. Qui ha iniziato la sua carriera il pluricampione olimpico e mondiale Stefano Oppo. Per diventare campioni olimpici, afferma il prefetto, non basta il talento, ma è fondamentale un forte impegno e allenamenti regolari, oltre a un ambiente su cui crescere e apprendere i valori dello sport. Dopo aver visitato questo circolo sono certo che presto sentiremo parlare di altri nuovi giovani talenti che saranno in grado di seguire le orme di Stefano Oppo. L'assessorato alla cultura e la fondazione Oristano organizzano un laboratorio per bambini dal titolo Crea la tua maschera di Sartiglia. Il laboratorio si svolgerà martedì 29 ottobre dalle 16 alle 18 presso il centro di documentazione sulla Sartiglia in via Eleonora d'Arbolea. Il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni che potranno decorare la propria maschera di Halloween con colori acrilici dando sfogo alla loro creatività. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il centro di documentazione sulla Sartiglia al numero 0783 0303 33. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg di Aristansi TV. Grazie a tutti!